Ehi la bimbe! Ciao! Siamo uscite da scuola e siamo andate a prendere la merenda per chi? Per il piceto! Per Olivia! Ma voi avete fame? Io sì! Tu? Tanta! Tanta! E allora sapete che cosa vi dico? Che vi porto in un posto fantastico da perderci la testa! Siete pronte? Sì! Andiamo! Ho capito dove andiamo! E dove andiamo? Ah, forse andiamo qui! Sì! Sì! Entriamo! Entriamo, madre! Sì, entriamo! Sì, qua! Ma tu non vuoi questi, vuoi quelli bianchi! Andiamo a cercarli! Questi cosa sono? Guardate quanti dolci che ci sono! Ed è solo l'inizio! Stai svenendo? Quello che ce l'ho fatto un po' di popata! Sì, l'hamburger caramella! Che possiamo prendere? No, amor! Ti piace? Sì! E prendilo! Lo prendiamo questo anche! Assaggiamo questi, sì! Mi incuriosissono anche a me! Sono snack cinesi! Ma ne lo vuoi? Guarda, ne lo vuoi? No, ne uno! Beh, visto che siamo il team... Lollipop! Dobbiamo prendere dei Lollipop! Che colore scegliamo? Su, lei ti ha scelto? Sì! Prendimene una! Guardate le cicche super giganti! Ne prendiamo? Prendiamo queste mamma! Eh? Prendiamo queste mamma! La banana? Sì, la banana! Prendile! Mamma, mamma, non mi ha sassato! Stasera! Ciupacciupà! Ciupacciupà! Prendiamo! Prendiamo! Quello la fragola che piace a te! Sì, dove è? Mmm! Il cioccolato a forma di ammellino! Il briscieri! Eh? Il briscieri! Golosona! Hai trovato i croccanti? Mamma mia, che bontà, Vanessa! Mannaggia a noi che siamo entrati in questo posto! Guardate, amici! C'è da impazzire! Una maschera di carnevale! L'ho trovato qui! Guardate che super mega ciupacciups che ci sono! Anche qua, il bouquet di ciupacciups! Mamma, potrei prenderlo qua a te, io li voglio! Vuoi fare il tiramisu? Vuoi fare il tiramisu con i padeggini? Sì! E prendiamo anche questi! Prendilo, amore, non cade! Guarda! Vai, tranquilla! Si possono fare verdi, bianchi, cioccolato e anche... All'atte! All'atte! All'atte, allora oggi ne cacciamo al caffè! Guardate quanti ciupacciups che ci sono! Ciupacciups è tutto stiano! Guardate la torta di arachidi e riso, mamma mia! Dove siete? Guardate queste bevande di Dragon Ball! E queste cosa sono? Box emoji! E di cosa c'è dentro? Il cioccolatino a forma di emoji! Non capisco, lunchbox emoji! Cercare i... Cosa vuoi? I marshmallow! Dillo! Marshmallow! 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 Guarda, Anni, guarda l'ombrellino! Sì, lo voglio! Io lo voglio! Uno e due... Eccoli qua, dai! Andiamo a cercare i marshmallow bianchi che vogliamo... Oh, aspettate, aspettate, aspettate! Cos'è? Cos'è? Cos'è tutta questa cosa strana? No! Tutte queste cose cinesi! Io prendo questi! Salatini! Al pomodoro! Guardate che piccata questi! Questo cos'è? Sono ripiense... Ci sono un sacco di prodotti articoli cinesi e americani! Dopo andiamo a cercare quelli americani! Cos'hai preso? Niente! Cos'è? Guarda cos'è prima! Magari non ti piace! Guarda! C'è queste bevande? Ma ne proviamo una! Questo è il mogu al cocco! Mogu all'uva! Mogu alla fragola! E mogu al mango! Che buono! Io voglio questo qua! Questo è il mango! Ma cosa sapete cosa ho preso? Cos'hai trovato? 3, 2, 1... Tata! Li abbiamo trovati finalmente! Questi marshmallow si fanno sul fuoco! Lo sai? Sì! Eh? Stasera li proviamo con papà che ama queste schifezze! Io no! Non è vero! La tavata le va mangiate! Io? No papà! Appunto! Lui piacciono queste cose! Lo so! Io le vorrei aprire dopo! No! Stasera! Ciao! Ecco a voi! Altri ciupa ciupa mega 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 giganti! E patatine! Qui ci sono delle patatine va con dei personaggi vari! Però vabbè pensavo qualcosa di più originale! Pensavo che lo svegliamo! Patatine! Trovi dentro le gemme dello slime! Queste sono belle invece no? Comunque qui c'è da impazzire! Impazzire! Spendile! Domani mattina le porto a scuola! Quando arriviamo a casa lo amo! Me lo mangio! Ancora con questi marshmallow! Me lo mangio! Ma questi marshmallow vanno mangiati sul fuoco! Eh lo mangio sul fuoco! E io non lo faccio! E me lo mangio io solo! Che cosa c'è ragazzi? Mmm! Briochine! Con tre creme diverse! Mamma mia! Cinese anche queste! Una sorpresa di me mamma! Che sorpresa hai! Non mi dire ancora i marshmallow! No! Un cono di marshmallow! No! Sono troppo dolce! A me non piacciono! Netti giù che andiamo a cercare qualcosa di più particolare! A me non mi piacciono! Queste altre cose cinesi che chissà cosa sono? Se sono tipo patatine! Ah sono salatine! Per gli aperitivi! Cinesi! Sì ci sono un sacco di articoli Vanessa! Cinesi e americane! Adesso andiamo a cercare anche quelli americani! Ok? Sì! Un'altra sorpresa! Sì! Vediamo! Ta-da! La pizza caramella! La pizza di... La pizza caramella! Sì! Queste patatine che probabilmente sono al wasabi! Pea snack! Perché? Magari invece sono buone! Vediamo! No mamma! Ah no! Ai piselli! Buono! Ecco a voi la bevanda Mars! M&M's! E Pauci! Qua piselli al wasabi! Quasi quasi li prendiamo e facciamo uno scherzo a papà! Mamma! Che buoni! Ah ma questo è il mochi! Mocchi! Sono buoni! Questa è l'arachide no? Io questo lo devo assaggiare! Io sto all'alline! Dove l'hai trovato? Qua! Sono la cuba! Sono la cuba di puzzle! Che meraviglia! Le corte di masciumento! Buono scherzo! Guardate! Sono stupende! Grazie mamma che mi hai preparato l'attuccio! Non metterlo in bocca che te lo sei a posto! Lo hai trovato tu? Gli orsetti! Sono patatine normalissime! Crema Mars! Crema Bounce! Mia! Ho trovato l'orsetto! Lo cerchiamo da sei mesi questo orsetto! L'abbiamo trovato! L'avevo preso la torta! È vero dai! Perché ce l'avevo anche giugno di prima cosa fuori! Però non lo mangi eh! Mangi un senso! Ecco bravo! Merendine al marshmallow! Mamma mia! Va Ani! Guarda le merendine al marshmallow! Oddio sì! Saranno dolcissime! Ti cadranno i denti mentre le mangi! Secondo me! Andiamo a vedere cosa c'è qui e poi andiamo a casa! Andiamo a vedere l'ultimo accappale e poi andiamo a casa! Dai va bene! E che te mi riprendi mentre mangi un marshmallow! Va bene dai! Qua ci sono tantissime caramelle! Caramellose! Tipo e me menz! Una vasta estesa di caramelle! Questa è la torta di caramelle di là! Davvero? Sì guarda vieni! Aspetta! Guarda! È lì in alto! Eh la torta di marshmallow! Sì l'avevamo vista anche di là! Non ti ricordi? Sì! Ah! Pizza? Pizza! Vuoi la pizza? Vuoi la pizza? Sì la pizza caramello! Ah la pizza caramello! Ho ordinato le pizze! Sono arrivate? Sì! Cosa la bevo? Vieni signora! Grazie! Qual è? La torta stanzoni? Sì! Sto facendo! Ma io la volevo salame piccante! Sto facendo! Ah! Per vedere! Sto facendo! Vero! Grazie allora! Sono uova! Bene bene bene! Siamo uscite! Abbiamo fatto un disastro di acquisti di schifezze! In macchina non si mangia perché l'abbiamo lavata due giorni fa! Cosa ti è caduto? Ah! Il palloncino! Il palloncino! Adesso andiamo a casa e facciamo vedere con caramello! Sì! E ti stai mangiando il cioccolato? Vuoi anche il marshmallow? Sì! In verità il palloncino che era caduto era il palloncino! Vieni dietro! Ah! Ok! È buone! Tu sei sempre sporca di cioccolato! Guarda! Veramente! Sei una cosa impressionante! Tu sei stanca perché è uscita da scuola e non siamo ancora andate a casa! Siete volute fermarvi in questi negozi! Adesso andiamo a casa e ci vediamo dopo con l'abbrustolimento dei marshmallow! Ciao belle! Ciao belle! Allora, bimbe! Siamo tornate a casa con i nostri snack cinesi e americani! Quello che abbiamo trovato! Non ho voluto esagerare perché altrimenti compravamo di tutto! Queste case sono le mie che l'ho compiato io! Non è vero! Sono mischiate! Sì! Adesso vediamo! Allora, intanto tirate fuori tutto, dai! Ok, allora! Così vediamo! A vero! Una cosa! E questi sono... I piccotti per il film! Questi sono italiani! Li abbiamo presi per fare il tirami su, i pavesini! L'orsetto! L'orsetto! Lo giro se non lo giro! E questo cosa è? Vai, Vane, dai! Tira fuori... Ah! Hai tirato fuori il panettone! Sì! Perché loro regalano ancora questi panettoni! Ma è della Linda! Quindi sarà buonissimo! Anastasia! Le croccantelle al gusto ketchup! Queste le ho prese perché piacciono al papà! Ma che bello! E questo cos'è? Un espositore di chicche mini! Che bella! Poi la proviamo, eh! Poi? Poi, Vane! Tu? Ah, le caramelle alla banana! No, adesso no, amore! Stai mangiando le patatine perché stai facendo merenda! Non dobbiamo mangiare troppi dolci, troppe schifezze durante una giornata intera! Anastasia, che invece ha sempre la bocca sporca di cioccolato, ormai le sono cresciuti i baffi, sta mangiando anche lei le patatine! Eccola lì! La ladra di patatine, la ladra di olive! Mangia, mangia! Cosa hai preso, amore? Il salami al cioccolato! Questo l'ho preso a Vanessina! Per te l'abbiamo mangiato ieri all'aperitivo con gli amici, le è piaciuto tantissimo! E se non l'avete visto a video, andatelo subito a vedere! Esatto! Queste sono delle patatine cinesi che ispiravano a me e quindi le ho volute comprare e poi le proveremo! Ok? Ani? Allora volevo far vedere una cosa, ho comprato questa torta dove c'è scritto ti amo forma di cuore che era per San Valentino, probabilmente l'hanno fatta per San Valentino, ma l'ho voluta comprare perché non ho ancora assaggiato la pasticceria di questo locale, quindi vorrei capire se è buono oppure no! Mmm, cos'è amore? Che buono! C'è più tutto il mango dentro! Sì, guarda, questo l'ho voluto assaggiare io! Eh, questo è un succo al mango, vuoi aprirlo? Sì! Riesci? Guardate che carino, ha pure la faccina che sorride sul tappo! Questo è un succo al mango, sì, con dentro i pezzettini di mango che adesso assaggiamo! Guarda che l'ho leggermente aperto, eh! Prova! È buono! È buono? Anni, assaggialo anche tu! No, voglio! Assaggialo! Anastasia, va buona la marshmallow? Sì! Dai, apriamo che è buono! Oh, marshmallow! Finalmente i marshmallow! Dopo li proviamo, eh! Portiamo, porta pazienza ancora 5 minuti che finiamo di far vedere quello che abbiamo comprato! Le patatine di Topo Gigio che saranno? Eh sì, Topo Gigio puoi trovare qualcosa qua dentro! Questa qui è una cicca Big Bubble che all'inizio ha la consistenza dello zucchero filato, poi masticandola diventa cicca! Mmm, molto interessante! Mi sa che la mangerò solo io! Noio! A chi tocca? Ah, questo guarda! Vane, hai scelto proprio bene! Croccanti di tutte le specie! Nocciole, mandorle, semi di lino, buonissimi! Prendiamo questi! Ecco, fammi, ecco, questi li ho presi io! Questi ragazzi sono i mochi o moci, non so come si chiamano esattamente, mochi, moci e sono quelli alle arachidi! Che bontà! Non vedo l'ora di assaggiarli! Questi invece li ha presi Vane! Che sono buonissimi che hanno dentro tutto il cioccolato! Sì, fa vedere però! Praticamente cosa sono? Dei biscotti ripieni al cioccolato? Eh, diciamo, cereali! Già, cereali ripieni al cioccolato, buoni anche questi! Questo l'ho preso io per farlo assaggiare al papà! Crema di Mars, doppia di gusto, vedete? Sì! Stupenda! Con la Lila l'avevo presa io! E finalmente! I Lollipop! Benvenuti ragazzi nel team Lollipop! E voi, quale gusto Lollipop preferite? Noi abbiamo scelto rosso e azzurro! E poi c'è l'ultima cosa! Poi un'altra barretta proteica, sì, questa è per Vanessina che a lei piacciono un sacco! Puoi portarla anche a scuola per merenda, molto meglio quella che le bagaggine! Abbiamo finito? Oh, abbiamo finito! Ma c'è un'ultima cosa che sarà la merenda di Anastasia domani! Il croccante, anche questo, misto, i cereali! Ma non è vero, non è per Anastasia, ma è per Olivia, la nostra cricetina! Dopo andiamo a portarglielo! Olivia va matta per questo croccante! Sì, dopo! Vero, ti ricordi? Mi ha mangiato uno in tre giorni! Ma poi ha sgranocchiato completamente, era rimasto solo il bastoncino! Se avesse potuto si sarebbe mangiato anche quello! Quindi dopo andiamo da Olivia e le facciamo una super sorpresa! Allora, bimbe, mi sono accorta che alla fine di americano abbiamo comprato solo la crema Mars, eh! Quindi la prossima volta andremo a comprare gli prodotti americani, va bene? Sì! Faremo una scelta più dettagliata! Allora, Valestina, cosa hai aperto? Questa! Hai aperto l'espositore di cicche? Vediamo come funziona! È uscita una! Hai girato ed è uscita la cicca! Me ne dai una? Sì! Perchè? È dura? Schifo! È durissima? Oh! È buona? No? Sì, è di mano! Grazie! Assoluto! Carina l'idea della macchinetta che ti eroga la pallina di cicca! Ok, ragazzi, dobbiamo aprire i marshmallow perché Anastasia non sta più nella pelle! Anastasia, stai attenta a quella forbice, eh! Manina! Attenta, togli l'altra mano! Bene! Ok, però lì! Con l'aiuto di Vanessa ce l'abbiamo fatta! Vediamo un po' questi marshmallow! Anastasia, mi devi spiegare come si fanno, io non lo so! Sì, va bene! Allora, prima bisogna prendere una forchettina! Va bene! Sì! Ok, hai preso la forchetta e cosa fai? Direttamente dal sacchetto le inforchi? Sì! Quindi, volò! Nel sacchetto! E adesso dobbiamo andare sul fuoco? Sì! Sì, mamma! Grazie! Quindi? Ascendo! E cosa faccio? Lo faccio passare qua sopra? Sì! Così? Sì, sul fuoco! Sicura che così? Sì, la faccio papà! Ma in entrambi... Che schifo! Ma si sta bruciando! E si passa, passa! Cioè, se si brucia, passa! Eh, ma si deve bruciare, secondo me! Gira, gira! Eh, aspetta! Adesso lo giriamo dall'altra parte! Queste cose le mangiano gli americani? Sì! Ecco, questa loro è un'altra cosa... Gli americano scriverò nei commenti! Se c'è un americano che ci segue, scrivete se sto facendo la cosa giusta, oppure no! Probabilmente no! Come sarà, secondo te, Ani? Buono! Ok, basta, basta! Basta, mamma! Basta? Sì! Allora, aspetta un attimo, perché... Brucia? Non ti piace? Non ti piace? E se è che assaggio io! Vuoi assaggiare? Sì! Magari invece dentro è buono! È solo bruciato troppo fuori! Eh? Non sono capace a farlo, non l'ho mai fatto! Io non amo fare queste cose pasticciate! Guarda come esplode! Mmm! È buono? Sì o no? Sì? Bene, Ani, assaggialo adesso! Guarda! Vieni, vieni ad assaggiare! Adesso è buono! Ah, ma guarda! Settimane che mi fai una testa come una capanna per i marshmallow al fuoco, adesso non li vuoi più assaggiare! Tre, due, una! Mamma mia! Però sono veramente cose... Che io non tollero queste cose! Non hai una faccia convintissima, eh! Va bene ragazzi, dai che il video è finito qui! Alzati! Ani, dai che facciamo i saluti! Adesso ragazzi, facciamo i saluti! Anzi, se volete che noi vi salutiamo, scrivete il vostro nome nei commenti! Sì, perché voi usate magari l'account di un'altra persona e il nome che appare non è il vostro! Quindi scrivete sempre il vostro nome nei commenti! Vai, Vane! Katia Katia Katius, Malha e Gamal, Sabrina, Suada, Anisou, Anna Agresta, Gaia Lungo, Chiara Sollarina, Sofia Stella, Vanessa, no va, è scherzo, una che ha scritto che si chiama Vanessa e vuole che noi vi salutiamo, quindi Vanessa! Asia, Luvanna di Roma, Arianna, Manuela Galli, Eleonora Boicenco, Valeria, Giulia e Chiara! Ciao! 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 Se vi è piaciuto questo video, condividetelo con i vostri amici! Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video! Ciao! Ciao! Ciao!